Diciamo che è una squadra fatta tra amici, noi siamo una squadra un po' più forte e quindi si è vista la differenza. Con il bomber che lascia sempre il segno? Il bomber doveva dare delle risposte dopo due giornate di assenza e quindi ha risposto con 5 gol per la sua classifica a marcatori. Un sassuolo che dunque ha dato il via a questa stagione comunque nel migliore dei modi? Sì, sono 4 su 4, cerchiamo sempre di vincere tutte e ci stiamo riuscendo anche quest'anno come partenza. Adesso martedì abbiamo il primo trofeo stagionale e quindi vedremo di portarlo anche quello a casa. Supercoppa da campioni in carica ormai tra campionato Coppa Italia e Supercoppa? Eh sì, l'anno scorso abbiamo fatto l'emblaine, tutto abbiamo vinto. Adesso partiamo dalla Supercoppa come ho detto martedì e poi pian piano arriveranno altre finali, altri trofei, sperando che vada sempre tutto bene. Quale avversario è il Brescia? Il Brescia è una bella squadra quadrata, bisogna stare molto attenti al gioco che fa perché potrebbe far male, quindi non bisogna mai sottovalutare l'avversario. Infatti in finale di Coppa Italia vincemmo 2-1 e abbiamo rischiato anche di prendere il 2-2 alla fine con una disattenzione e quindi bisogna stare sempre molto attenti e rispettare l'avversario perché è una bella squadra. Grazie. Grazie.